Ciao a tutti ragazzi, dopo una frugale pausa cena, eccoci in sala, vedete il 300-600 EV con l'anti a 50 per quello che è il settimo livello di gara che poi verrà ripetuto successivamente per consentire a tutti gli altri giocatori che attualmente non sono in sala di giocare altrettanto il livello. Come vedete 20 minuti al termine di questo round di gioco, 39.253 il livello medio degli stack con 201 giocatori ancora in gioco. Vediamo anche una panoramica della sala, come vedete qui di spalle è Bambino, questo che abbiamo scoperto essere il suo nickname, è entrato in inganno dalla maglia che ci aveva fatto all'inizio pensare che invece fosse il suo vero nome. È un team pro Italy Poker, come vedete al suo tavolo anche piacentino per il team Venice Poker. Andiamo a seguire una mano, proviamo anche a scambiare qualche parola con Bambino. Tutto ok, tutto bene? Quanto hai adesso di stack? 50-50, un bel tavolo incontrato. Va bene, ti facciamo l'imbocca al lupo. Benissimo ragazzi, noi ci diamo appuntamento ai prossimi aggiornamenti della sala, come sempre buon poker e ci rivediamo sul foro. Ciao!